lunedì 9 gennaio una data importante per il territorio canavesano e per quanto riguarda la questione sanità questione sempre aperta che ha tenuto banco negli ultimi mesi anzi possiamo dire gli ultimi anni praticamente dal periodo covid in avanti con la chiusura di tutta una serie di spazi dedicati appunto agli interventi sanitari nel territorio canavesano in particolare pronto soccorso di quarnier dicevamo una data importante perché è stata l'occasione questa dell'apertura del punto di primo intervento non si tratta di pronto soccorso ma sicuramente di uno spazio che aiuterà decisamente la zona dell'alto cannavese in primis per quanto riguarda tutta una serie di interventi con il consiglio regionale mauro fava che naturalmente anche canavesano e conosce molto bene l'argomento il territorio siamo qui per fare due chiacchiere e soprattutto per capire un attimino come è stato impatto in questo primo giorno di apertura del punto e soprattutto per comprendere anche un pochettino dove stiamo andando a parare poi per il prossimo futuro ma allora questo primo giorno com'è andato buongiorno davide buongiorno ai telespettatori è andata dicerei non bene più che bene perché se si pensa che da circa due anni si attendeva questo giorno la ripresa di un servizio importante come era il servizio di primo intervento per il nostro territorio per quarnier per le nostre vallate per il canavese oggi è ripartito e devo dire che con personalmente una bella soddisfazione perché dopo tanti tentativi che si era provato con bandi e tante altre richieste non non si arrivava mai a nulla questo ci ha portato il mese di agosto ad avere ancora una volta la volontà di la nostra dirigenza dell'asle i dirigenti e chi fa per loro hanno riproposto un altro bando su questo sistema qui ed oggi siamo ripartiti abbiamo avuto un risultato importante con questo devo ringraziare di anzitutto la in primis il nostro presidente alberto cirio che ha creduto subito in questa possibilità creduto subito in un territorio che aveva la necessità e il dovere di poter recuperare una parte importante di questo servizio che il cuore niente ma che che tutto il territorio necessita oggi è ripartito quindi che la mia soddisfazione è questa mattina quando sono arrivato alle 8 trovando le maestranze e le varie persone che hanno gestito tutto l'allestimento e quanto c'è ancora da fare perché sicuramente si è ripartiti ma c'erano tante cose da fare trovarli così attivi e così entusiasta di questa nuova partenza ha entusiasmato anche a me poi ti posso dire abbiamo fatto un giro all'interno ho visto una situazione posso dire anche che non vedevi da tempo a cuore niente anche da parte dei medici che incontravi con una certa soddisfazione anche con una certa preoccupazione perché si parte di nuovo con un servizio che non è il completo perché non si tratta di un pronto soccorso ma di un punto di primo intervento laddove vengono ricevuti i codici bianchi e verdi e stabilizzati i casi più gravi che vengono trasportati laddove necessita però come ricordo sempre l'asle ha fatto dei comunicati delle locandine che ha distribuito a tutta la popolazione dov'è che ti dà una linea di massima sugli interventi che possono svolgere un punto di primo intervento importante come corne di line avanti sempre stando nel modo più corretto di chiamare i numeri dell'emergenza che al 112 per descrivere la tua patologia quello che ti senti e loro già ti sanno indicare dove tu devi andare poi se c'è bisogno di che ti vengono a prendere con l'ambulanza con il 118 con tutto quello che c'è loro sono più in grado che partire di di testa propria e affrontare magari una situazione che non sono in grado di valutazione a cuore niente questo e quanto si si è messo in piedi oggi ma posso dire che la struttura di cuore niente oggi ha dimostrato di essere all'altezza della situazione a una serie di reparti che funzionano non bene ma di più abbiamo il nostro ospedale del nostro territorio che dà una grossa mano ai centri convivrea specialmente su delle patologie che purtroppo la popolazione nostra diventa sempre più anziana e abbiamo una generativa che funziona molto bene abbiamo una situazione che secondo me può diventare una dei fiori l'occhiello che lo è già ma può ancora migliorare perché quando vedi l'entusiasmo dei medici all'interno di tutti chi lavora tra infermieri e tutto quanto vuol dire che qualcosa di positivo c'è la parte più più positiva che a cuore niente che abbiamo visto di medici che hanno lavorato proprio per l'interesse della struttura ma per l'interesse del territorio perché poi la struttura ha un suo perché ma il territorio è tutto il resto i nostri sindaci si sono battuti in primis con loro abbiamo lavorato affinché venisse dato un primo segnale oggi è partito il primo segnale si è detto una data la data l'abbiamo rispettata si è detto che si facevano diverse attività su quarnier io parlando oggi produttore i dirigenti di sale operatorie funzionano benissimo abbiamo ambulatori abbiamo percorsi di visite ambulatoriali che fanno fanno bene e ben sperare per un futuro è ovvio che tornare ad avere un ospedale come era 30 40 anni fa non so se ci sia la possibilità ma oggi con le disposizioni che danno i vari protocolli di m70 e altri sicuramente il quarnier ha ancora da lavorare per avere determinate situazioni ma sulla strada sulla buona strada perché abbiamo veramente riscontrato io personalmente non conosco quel mondo lì ma ho visto un mondo di persone entusiaste con la voglia di far crescere e di ritornare a dare una certa utilità al territorio con questa struttura che detta da tanti e posso dirlo è una tra le più belle che ho visitato in questo periodo che di questo mio percorso da consigliere regionale perché visitate tante ma forni e diciamo che ha una struttura non perché sono forniatese ma a diverse cose da lodare specialmente proprio per il lavoro fatto in questi giorni quando entra in una struttura che anche da parte di tutti c'è anche una preoccupazione perché parti da con una cosa che ripristini con tante difficoltà perché noi sappiamo quando ripristini ma non sai che ti arriva e oggi devo dire grazie a tutti quelli che hanno lavorato dai direttori sanitario direttore della dell'asle a una persona in particolare che penso che abbia lavorato più lì e trascurato magari casa sua che il dottor adamo proprio per portare a dare un significato molto importante questa questa nuova ripartenza di questo punto di questo punto di primo intervento che a cornieri darà penso ottimi risultati proprio per il territorio diciamo che questa è una risposta importante anche a chi non credeva nella possibilità di riavere di nuovo un punto adesso di primo intervento per il territorio visto che nei mesi passati si è sempre parlato delle distanze comunque che in particolare dalle valli si devono raggiungere per arrivare agli attuali pronto soccorso comunque ospedali che ricevono e ricevono anche in grossa quantità i malati o le persone che hanno bisogno diciamo che questo anche un aiuto definiamolo quasi uno sgravio per così dire su certi punti anche per quelle che possono essere altre le strutture importanti del canavesi in attesa poi di quello che possa essere il futuro della sanità locale la sanità locale ha delle buone buone opportunità con questa ripartenza di un servizio che era stato sospeso diciamo che non voglio entrare in polemica su chi ci credeva chi no perché poi giustamente che le opposizioni devono fare la loro parte chi anche la pensa magari come te ma non ci crede perché giustamente ha vissuto un periodo magari diverso da questo e vede questa situazione critica perché magari la tocca con mano o ha delle difficoltà magari che vede le difficoltà che ci sono nei pronto soccorsi di primo livello tipo ibreo tipo cirie o chi vasso notano questo vedono sempre più difficile ripartenza oggi abbiamo dimostrato ma noi come regione ma di innanzitutto noi facciamo solo la parte politica oggi la sottoquattro dimostrato di essere all'altezza di una situazione di far ripartire dei servizi laddove in tante parti del nostro paese non solo del nostro territorio hanno seri problemi noi ripartiamo quando gli altri magari hanno problemi proprio di stare aperti di mantenere una una situazione stabile come noi stiamo portando su quarniema anche proprio anche per alleggerire un po i tre pronto soccorsi importanti di ivrea chi vasso e cirie questo speriamo che sia di aiuto per loro ma che sia più che per gli altri che sia di aiuto per il nostro territorio che dia delle risposte a quelle persone che ne hanno necessità come dicevo prima sono codici bianchi e verdi quelli che riceve e ti riceve 12 ore al giorno per sette giorni alla settimana e questo è già un traguardo in più abbiamo nel servizio notturno una ambulanza medicalizzata che se arrivi può stabilizzare e portati dove ti serve destinazione penso che un lavoro fatto dopo aver passato una un periodo di pandemia che ha non solo sconvolto il mondo della medicina ma ha cambiato tutte le le direttive che c'erano perché il sistema è cambiato anche all'interno è cambiato noi non lo vediamo perché poi sono l'ultimo che devi dirlo perché non conosco la medicina sono un medico però lo vedi che è cambiato te lo dicono loro e questo oggi ha dato una ventata di di freschezza non una novità perché c'era già prima c'era un pronto soccorso oggi ripartito quanto una parte importante speriamo che nel più breve tempo possibile si trovano le figure mancanti per ripartire con un pronto soccorso H24 ma proprio per dare un servizio maggiore al territorio ma specialmente a tutto l'interno dell'asile perché serve proprio per andare anche ammortizzare quelle situazioni che si stanno definendo in questo momento sui tre pronto soccorsi principali che ci sono noi abbiamo anche la fortuna che abbiamo lavorato bene con il 118 con il rissoccorso che ti può già smaltire anche tanti interventi sul territorio basta di fatto che a noi serve questa struttura ma serve proprio per dare le risposte immediate ai cittadini che come si dice non solo pagano le tasse ma sono doverosi verso questa cosa qui infatti ricordiamo tu l'hai sottolineato è un problema non legato unicamente al cannabis ma è un problema purtroppo sanitario nazionale il sistema nazionale a livello sanitario ha delle grosse problematiche mancano medici non pronte soccorse che in tutta italia hanno dovuto chiudere effettivamente la speranza è che però si riesca a risolvere diciamo così almeno una parte di questi problemi si possa tornare a dare quei servizi che sono fondamentali per i territori certo ma faccio una piccola premessa ed ecco non serve polemizzare su un argomento così importante come quello della necessità dei primi interventi della salute ma serve collaborare perché a volte la collaborazione è molto più utile che la polemica perché la polemica ti porta a guadagnare una pagina del social o un mi piace o qualcosa in più la realtà è molto diversa noi abbiamo da rispondere i cittadini anche a volte come si dice anche prenderci come si dice per la giacca ma trovare un risultato oggi non abbiamo avuto quello perché ci sono state delle polemiche ma lasciano tutto secondo me il tempo che trovano perché anche forse è giusto che la politica faccia anche questo corso qui ma da parte nostra da parte mia di tutti i miei colleghi ma innanzitutto del presidente cirio che ha creduto su questa struttura fin dall'inizio e oggi abbiamo dato le risposte che che ci aspettavamo è ovvio che manca ancora dei tasselli per arrivare alla composizione del mosaico che era fornì è alcuni anni fa io per quanto mi rimane di mandato il mio impegno non mancherà a dare queste risposte e ne sono convinto e posso dire la certezza è morta però sono convinto che molte cose andranno ancora a delinearsi proprio su questa struttura perché è veramente una una struttura importante interessante non solo per il cannavese ma per tutto quello che riguarda alcuni settori della medicina perché da veramente dei risultati poi come dico io non ho la macchetta magica non conosco il futuro non ho la sfera non ho nulla o soltanto tanto tanta buona volontà e tanto buon senso che ho visto che oggi l'hanno trasmesse ancora di più con l'entusiasmo che avevano all'interno della struttura di cornie chi ci ha lavorato fin dall'inizio dal direttore sanitario al direttore dell'as e come già detto prima tutti quelli che hanno lavorato il personale dell'ospedale di cornie perché sicuramente in questo periodo da quando si è annunciato il giorno dell'apertura hanno posso permettere di dire lavorato tutti in squadra per avere quel risultato che ho visto stamattina e ne sono orgoglioso di dire che sono un cittadino cornie tese che sono un canalesano che sono piemantese e che sono vicino quel lavoro che hanno fatto perché veramente è da orgoglio adesso appunto stiamo parlando delle prime ore dei primi giorni in cui il servizio è partito bisogna dare giustamente anche un po di tempo perché tutte le cose tutti i tasselli poi anche anticipato tu ci sono ancora dei lavori da ultimare dei servizi che entreranno poi a pieno regime nelle settimane in futuro e quindi diamo anche tempo un attimino che anche alla gente di capire è vero che sono stati fatti degli incontri per spiegare come funziona il punto anche come cercare di muoversi di conseguenza anche in questo tipo di informazione è stata importante e sarà importante per far capire che cornie può essere un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio se proprio anche complimentarmi con il servizio di informazione che ha fatto l'asda e che ha fatto su tutto il territorio nei vari comuni proprio da andare incontrare la gente incontrare anche i medici di base ma incontrare tutto quel sistema che c'era come l'RSA o come delle situazioni che hanno delle circostanze diverse dalle nostre cioè andare in un RSA e spiegargli quello che serve il punto di primo intervento è importante perché a volte l'RSA ha delle patologie che non è in grado di gestirle ma magari non è da pronto soccorso da ricovero in ospedale ma da arrivare in un punto così importante come può essere quello di Porniedo perché ti può diagnosticare ti può anche essere vicino proprio di aiuto e questo è un servizio non differente e io sfido tutti a polemizzare mi sta bene la polemica ma a volte bisogna anche mettersi in senso della ragione e lavorare con chi sta lavorando perché a tutti quanti cerchiamo di portare un contributo per migliorare la nostra vita per migliorare la situazione territoriale ma la nostra situazione territoriale come si dice e su tutto il paese come dico parti del paese hanno altre difficoltà noi oggi quelle difficoltà le abbiamo superate dicendo stiamo partendo con qualcosa di importante come dicevo prima non è una novità perché è una cosa che c'era ed era completa oggi a una parte è ripartita manca ancora qualche tassello per completarla per arrivare a dare dei dei numeri importanti ma sicuramente la strada è quella buona l'entusiasmo c'è le capacità ci sono di chi gestisce la cosa e quello mi fa ben sperare anzi mi fa onore di dire sono un cittadino canavesano e questa è una struttura canavesana di tutto rispetto bene ringraziamo mauro famo per l'intervento grazie per averci anche raccontato quello che hai visto e vissuto sulla tua pelle tra virgolette in questa primi giorni queste prime ore di servizio posso dirti che veramente stavo riflettendo adesso quando tu mi facevi le domande e ti dico stamattina essere lì qualcosa di particolare perché come ho detto non solo l'entusiasmo di loro ma di chi ti circondava vedevi una una voglia di vedere dall'altra parte però anche un po di timore perché sai sempre paura di commettere qualche qualche errore qualcosa di di perfetto c'è perché se fossimo tutti perfetti ma saremo oggi a ripartire ma non avrei mai chiuso oggi quello è molto molto importante grazie ancora del tuo intervento a questo punto non resta che aspettare di dare tempo a questo servizio di entrare piena regime sicuramente per il territorio una bella risposta una risposta importante anche che poi sarà seguita da ulteriori novità attendiamo naturalmente poi di sapere quali sarà il futuro del nuovo ospedale ma quello è un altro argomento che tratteremo prossimamente grazie ancora mauro grazie a voi grazie a tre spettatori grazie a tutti